Totonio Guagliarello c'è da dire che raggiunse proprio il massimo successo proprio dopo la morte dell'autore Giovanni Capurro nel 1920 quando ad interpretarla intervenne il grande Raffaele Viviani. Il grande successo di Totonio Guagliarello appunto è raggiunto con l'interpretazione di Viviani che la mise nel suo repertorio e la portò davvero in giro per il mondo. Dopo Raffaele Viviani c'è da dire negli anni un altro grandissimo interprete di questa canzone è stato un altro attore vivianeo per eccellenza Nino Taranto però ecco dopo due grandi interpreti come Raffaele Viviani e Nino Taranto Eh mo' a te è un bel compito proseguire e dire qual è il terzo interprete che segue questi due e questo lo lascio dire a te. Eh me lo lasci dire a me eh ho capito perché perché io vado via eh tu vado via ti lascio a dopo eh a dopo. E dunque lui è eclettico, lui è istrionico, lui è un mattatore in alto, lui è un grande organizzatore, lui è una persona che praticamente fa eh Italia, New York, New York Italia praticamente quasi due volte, tre volte l'anno. E lui è e lui è l'organizzatore di questo mezzo, Ciro Giorgio, eccolo qua. Eh ma ma come? Ma scusate scusate dovete sapere che dietro le quinte c'era un po' di whisky. Adesso non vi garantisco nulla signore e signori Ciro Giorgio. Ciro Giorgio 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 Ciro Giorgio